Con l'epifania sono in arrivo gelo e neve a bassa quota, venti burrascosi con raffiche fino a 100 km orari e mari molto agitati con onde alte fino a 6 metri. Le temperature notturne scenderanno fino a meno 8 al nord e fino a meno 20 sulle Alpi, meno 4 al centro e al sud e in pianura. Come a Roma, che è previsto dai meteorologi di Meteo.it, la settimana del 2017 sarà decisamente movimentata. In Italia il gelo arriverà tra giovedì e sabato, la perturbazione porterà un deciso peggioramento del tempo sul medio adriatico e al sud, affermano gli esperti. Il rischio di nevicate sarà accompagnato da un tracollo delle temperature e da venti gelidi selittendrionali. Nelle giornate di venerdì, ovvero il giorno delle epifanie, di sabato è previsto il picco del gelo, con il rischio di neve non solo sui settori interni ma anche lungo le coste del medio adriatico, al sud e nel nord della Sicilia. Il freddo sarà ancora più pungente per effetto del raffreddamento del vento, causato dai forti e gelidi venti selittendrionali che soffieranno con raffiche fino a 100 km orari. I mari saranno molto agitati al centro-sud con onde da 4 a 6 metri.